Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. La dichiarazione d'amore finalmente conferma che il cantante e la ballerina sono una coppia. Da tempo sono tanti i pettegolezzi in merito a una ipotetica relazione tra Cricka e Isabel. Tuttavia dopo la fine di Amici di Maria De Filippi non era ancora arrivata una loro conferma. Lo scorso febbraio c'era stato il primo bacio nella casetta del talent show di Queen Mary. E fusioni che avevano stupito tutti visto che al suo ingresso la danzatrice aveva ammesso di essere interessata solo ed esclusivamente al ballo. Senza avere alcuna intenzione di intrattenere flirt all'interno della trasmissione. Nel corso del serale la relazione era finita, ma pochi giorni fa, sono stati avvistati nuovamente insieme. In occasione del compleanno di Cricka, festeggiato l'8 agosto, Isabel ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ci sono alcune foto insieme al cantante. Scorrendo le immagini è possibile vedere anche un paio di scatti in cui i due si lasciano andare ad un tenero bacio. Lo stesso Cricka ha ricondiviso una foto nelle sue storie, scrivendo I love you. Con questa dedica Isabel ha confermato che è tornato il sereno tra i due.